Per le interviste della settimana ci è venuta a trovare Marta Tibaldi, che io saluto con molto piacere. Presentiamo il suo libro, Pratica dell'immaginazione attiva, dialogare con l'inconscio e vivere meglio, per la Lepre Edizioni. Uno dei tanti libri della Lepre, che veramente sono dei libri di alto contenuto, come stiamo tra l'altro vedendo anche nelle puntate queste e nello stesso tempo della scorsa stagione. Volevo dire brevemente qualcosa di Marta Tibaldi, psicologa, analista di Unghiana, ha scritto anche un libro precedente che so che è andato molto bene, Oltre il cancro, giusto? Trasformare creativamente la malattia che temiamo di più, Moretti e Vitali 2010 e adesso Pratica dell'immaginazione attiva. Senta Marta, io però le volevo chiedere, prima di entrare proprio sull'argomento che lei ci fa capire, nello stesso tempo leggere con molto piacere, qualcosa sul grande filosofo Jung, perché lei è giustamente analista junghiana e quindi per il pubblico di libri oggi qualcosa su questo grande filosofo. Allora, noi normalmente conosciamo Freud, che è il padre della psicanalisi. Tra l'altro recentemente è stato messo in pubblicazione, messo in il film di Cronenberg e quindi conosciamo soprattutto Freud come padre della psicanalisi, però è molto interessante vedere già nel film che subito dopo, contemporaneamente a Freud, si afferma questa grande personalità che è quella di Jung, che era un po', sarebbe dovuto essere il suo pupillo. Poi in realtà ci sono state delle divergenze teoriche che hanno portato a una differenziazione del pensiero e è nata la psicologia analitica e appunto poi gli analisti junghiani. Quindi diciamo che io sono formata sulla base del pensiero di Jung, che è questo grande analista che ha cambiato un po' la concezione dell'inconscio. Ha ragione. Proprio di questo si parla, anzi lei ne parla e ne scrive con questo suo libro, veramente che devo dire che ho trovato chiaro, leggibile, nello stesso tempo anche sorprendente, anche per quello che ci dice. La pratica dell'immaginazione attiva, dialogare con l'inconscio, però in un stato di veglia, quello che volevo chiederle. Quindi ecco, spazio a ognuno di noi, no? Noi possiamo entrare in rapporto col mondo interno, normalmente noi entriamo in rapporto attraverso i sogni, però che cosa succede? Noi dobbiamo aspettare che il sogno venga da noi, quindi le immagini ci vengono incontro nei sogni e noi poi cerchiamo di capire che cosa ci dicono. Con questo metodo, che è un metodo proprio junghiano, tipicamente junghiano, noi possiamo dialogare, entrare in rapporto con queste stesse immagini, però in stato di veglia. Come si fa? Ora, naturalmente non abbiamo molto tempo per spiegarlo, però creando una situazione mentale di vuoto, noi lasciamo emergere queste immagini dal profondo e poi possiamo addirittura dialogare con queste immagini. Quindi è una possibilità incredibile che abbiamo per conoscere il nostro mondo interno e facendolo anche in modo intenzionale. Certo. Quindi questa è la cosa interessante. Non nel sonno, quindi nel stato passivo, perlomeno così. Esattamente. Quindi abbraccia sia lo stato conscio che inconscio. Conscio che inconscio in modo attivo e intenzionale. Quindi questo è l'elemento molto importante, perché noi possiamo essere attori nel nostro palcoscenico interno. Quindi possiamo fare qualcosa anche, per esempio, dei nostri dubbi, dei nostri stati emotivi. Cioè, qualsiasi cosa anche ci disturbi, noi possiamo andarla a vedere più in profondità da svegli. Cioè, possiamo conoscerci meglio e per questo poi vivere meglio, perché non siamo più preda, per esempio, di stati emotivi che non comprendiamo. Certo. Ma tutti quanti sono controllati e nello stesso tempo c'è, come dire, ampio spazio per la creatività e, diciamo, anche per la propria, come possiamo dire, libertà. Eh sì, è uno spazio creativo e di libertà. Quindi sicuramente qualcosa di importante, oserei dire quasi, diciamo, sicuramente sorprendente e nuovo che c'è in questo libro. Sì, non siamo abituati a questo, ma noi sappiamo anche molto poco di noi. Poi se pensiamo che le persone, molte persone non vogliono andare in analisi, perché non vogliono conoscere parti profonde di sé, e qui siamo molto oltre. Però, appunto, il libro cerca di far vedere quanto possa essere affascinante questo viaggio, perché è questo, è un viaggio affascinante. Infatti, sicuramente, io l'ho letto e sicuramente non posso che approvare. Senta, leggendo il libro, non solo, tra i vari capitoli ci sono, come dire, degli spaccati ulteriori che riguarda questo. Ecco, avremmo modo di tornarci eventualmente sull'argomento. Io qua, per esempio, vedo, non so se lei è d'accordo con me, capitolo quarto, brevi considerazioni su immagini del profondo e processo di individuazione. In effetti, il processo di individuazione è quanto mai importante, io leggo brevemente, l'individuazione e, in generale, il processo di formazione e di caratterizzazione dei singoli individui, e in particolare lo sviluppo dell'individuo psicologico come essere distinto dalla generalità, dalla psicologia collettiva. Sì, il processo di individuazione è un altro concetto fondamentale della psicologia analitica jungiana. Che cosa dice Jung? Ognuno di noi ha delle potenzialità e attraverso il processo di individuazione noi possiamo diventare totalmente noi stessi. Quindi, non viviamo più soltanto in un pezzetto piccolo delle nostre potenzialità, ma realizziamo tutte le nostre potenzialità. Quindi, e per fare questo, Jung dice, è fondamentale questo rapporto attivo e continuo con l'inconscio, perché appunto noi non siamo solo la coscienza, il nostro punto di vista cosciente, ma siamo anche altro. Se noi mettiamo insieme queste due realtà, possiamo realizzarci totalmente, quindi anche raggiungere un maggior benessere nella nostra vita, perché le nostre potenzialità verranno realizzate. Poi mi sembra, ecco, non so se lei è d'accordo con me, ma il concetto proprio di individuazione, ecco, il confronto, si contrappone un po', come dire, a quello della collettività. Sì, perché è una via individuale, che però non è contro il collettività, semplicemente si vive nella società e si è ben adattati, però anche si segue una via personale. Quindi noi diventiamo quello che siamo. E questo mi sembra molto bello in un momento in cui anche c'è un grande disorientamento. Diciamo, possiamo ritrovare un orientamento interno che è vero, perché è il nostro. Certo. Senta, questo è altro di più nel libro, chiaramente lasciamo quindi anche il piacere della lettura agli amici di Librioggi e nello stesso tempo anche, come dire, ad approfondire riguardo questo libro della dottoressa Marta Tibaldi, abbiamo detto, infatti, psicologa e analista jungiana. Anche perché ci sarà sicuramente un riscontro dal suo libro, anche questo è un dibattito, come tante volte io appunto ricordo agli amici di Librioggi, un dibattito importante sull'argomento. Senti, io la ringrazio per essere venuta. Prego, grazie a me. Pratica dell'immaginazione attiva, dialogare con l'inconscio e vivere meglio. Marta Tibaldi per la lepre. E alla prossima occasione. Alla prossima occasione. Alla prossima occasione. Grazie. La ringrazio molto e complimenti per il libro. Grazie. 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 Grazie.